Le elezioni amministrative in Friuli, Venezia e Giulia si terranno dunque domenica 3 e lunedì 4 ottobre. La conferma nel pomeriggio, dopo la decisione della Giunta regionale su proposta dell'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. I comuni interessati sono 38, solo 4 con più di 15.000 abitanti, oltre a Trieste, Pordenone, Cordenonse e San Vito al Tagliamento. In zona triestina c'è anche il comune di Muggia, mentre nell'Isontino va a rinnovo anche l'amministrazione di grado. Va ricordato che, come previsto dalla legge regionale 6 del 14 maggio scorso, per assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da Covid, le operazioni di votazione si svolgeranno nel primo e nel secondo turno, nella giornata di domenica dalle 7 alle 23 e nella giornata di lunedì dalle 7 alle 15. La stessa legge 6 aveva stabilito che le elezioni amministrative dovessero tenersi in una data compresa tra il 12 settembre e il 14 novembre 2021. Fino a pochi giorni fa, la data più probabile sembrava essere il 10 ottobre, che però a Trieste coincide con la domenica della Barcolana, una concomitanza scongiurata dalla conferma delle nuove date. Grazie. 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 Grazie.